Presentato l'intervento di valorizzazione dal Bosco di San Francesco a Piandarca e il sentiero della predica agli uccelli, realizzato grazie al contributo di 12.000 euro messo a disposizione nell'ambito della settima edizione del Censimento i luoghi del cuore, promosso dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS e da Intesa San Paolo, e al cofinanziamento dei comuni di Cannare e di Assisi, rispettivamente di 10.000-5.000 euro per un importo complessivo di 27.000 euro. Il FAI attraverso il Censimento dei luoghi del cuore promuove appunto questo movimento delle comunità locali nel far emergere quelli che sono i luoghi che li emozionano, ai quali sono legati, che hanno un significato identitario per quella comunità e quindi con la raccolta delle firme si riesce a raggiungere degli ottimi livelli nella graduatoria per ottenere un contributo e in questo ringraziamo moltissimo Banca Intesa che collabora con il Fondo Ambiente Italiano in questa iniziativa, grazie alla quale dal 2003, quando si è iniziato con il primo censimento dei luoghi del cuore, oggi abbiamo potuto realizzare ben 139 progetti in tutta Italia. Quindi è qualcosa che ci rende molto soddisfatti, molto contenti, ma soprattutto della risposta del pubblico. Chi mette una firma non lo fa così con leggerezza, non è un atto formale, ma è un grido di allarme verso delle zone che magari sono in uno stato di abbandono, di degrado e comunque è un atto di amore. Sta a significare io amo quel luogo, per me è qualcosa di importante che mi rimane nel cuore e voglio che sia riportato la sua originaria bellezza. Attraverso il censimento dei luoghi del cuore possono emergere tanti beni che molto spesso non sono conosciuti, ma che arricchiscono tantissimo quel patrimonio immenso di bellezza che costituisce il nostro patrimonio culturale, architettonico, storico e naturalistico che fa dell'Italia un paese unico. Nel 2014 il Comitato Pian d'Arca, nato nel 2010 per scongiurare l'installazione di un grande impianto fotovoltaico lungo il sentiero della predica agli uccelli di San Francesco, con l'appoggio morale del Sacro Convento di Assisi ha avviato la promozione di Pian d'Arca, partecipando al censimento i luoghi del cuore. Sindaco, la quindicina di chilometri è solo un sogno o sarà realtà? No, sta diventando realtà, anzi oggi è il giorno in cui effettivamente un percorso della nostra comunità ha iniziato diversi anni fa, si concretizza e si materializza. Questo è un percorso che da fare a piedi non ha una distanza particolarmente considerevole. Tuttavia, anche se magari dovesse essere un po' faticoso, la fatica viene ripagata dai luoghi meravigliosi che si attraversano perché partendo dal Bosco di San Francesco, che è un luogo dove la meraviglia della natura rappresenta in maniera perfetta anche l'Umbria, si attraversa tutta la campagna che porta fino a Cannara e poi si arriva al luogo della pratica degli uccelli. Quindi è un percorso che va non soltanto fatto a piedi, ma va anche gustato e vanno contemplati i luoghi e va fatta anche, secondo me, la necessaria meditazione sulla meraviglia della natura che in questo percorso si manifesta in maniera piuttosto evidente. In soli tre mesi Piandarca riuscì a raggiungere il decimo posto nella classifica nazionale grazie al voto di 22.888 persone. Assisi Cannara, Francesco, Piandarca, è tutt'uno? È tutt'uno. Riprendo le parole del direttore perché siamo profondamente convinti che questa iniziativa sia un'iniziativa di unione, di unità e di forza dei nostri comuni che sono terra francescana, come del resto l'Umbria è terra francescana. Siamo altresì convinti che questa iniziativa che parte, e lo voglio subito ringraziare dal Comune di Cannara, il Sindaco, l'amministrazione che ci ha sempre fortemente creduto, sia un'iniziativa che valorizza tutto il nostro territorio, che apporterà ancora più visitatori, tra l'altro visitatori, turisti, di un turismo lento, di un turismo sostenibile, di un turismo che è fatto di rispetto per la natura, ispirato proprio a quella custodia del creato che il Santo San Francesco, che ci apprestiamo a festeggiare, ci ha insegnato e continua a insegnare con un'attualità senza pari da ormai quasi 800 anni. È un percorso che anche noi vorremmo valorizzare e ne è prova appunto anche la presentazione che avviene qua. È uno di quei percorsi che vogliamo sempre più incrementare e di cui ci prenderemo cura insieme, ciascuno per la propria parte. È dunque un'iniziativa che sposiamo totalmente, ringraziando chi si fa capofina, chi si fa promotore, ed è un'iniziativa destinata davvero a crescere verso poi l'ottocentenario francescano, l'ottocentenario della morte di San Francesco nel 2026. Quindi davvero un'iniziativa di unità che rende ancora più forte, più unita e più francescana la nostra terra. In virtù dell'ottimo risultato, la parrocchia partecipò al bando che il FAI lancia dopo ogni edizione del censimento, presentando un progetto per la valorizzazione di questo sito, che fu scenario di uno degli episodi più poetici e conosciuti della vita del santo, la predica agli uccelli, ottenendo un finanziamento da parte di FAI e Intesa San Paolo. La realizzazione del progetto è stata garantita anche grazie ai cofinanziamenti dei comuni di Cannara e Assisi, frutto del protocollo d'intesa tra il comune di Cannara e la città di Assisi, la diocesi Assisi-Nocera-Gualdo-Tadino e l'Ordine Francescano-Secolare dell'Unghe, sottoscritto nel gennaio 2015, avente per oggetto la tutela, conservazione e valorizzazione del sito di Piandarca. Per realizzarlo? Ci vogliono fondi, soldi? Allora, noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare sul nostro percorso il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, senza il quale questo progetto non sarebbe mai stato possibile e soprattutto anche la possibilità di collaborare con questa fondazione ci ha insegnato anche il metodo per poter portare a termine un progetto che è molto ambizioso, cioè quello di collegare Assisi con Cannara, sottolineando la comune vocazione di terra francescana di entrambi i luoghi, ovviamente Assisi perché è il luogo di San Francesco, ma Cannara perché è il luogo dove è stato ideato il terzo ordine francescano e anche perché è il luogo della pratica agli uccelli. Quindi con questa sinergia, con la collaborazione anche della città di Assisi, della diocesi e questo ruolo di supervisione e accompagnamento anche che ha svolto il Sacro Convento, noi siamo riusciti a realizzare questo collegamento. È motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità che sta valorizzando la sua tradizione, nella sua storia francescana che per lungo tempo era rimasta, diciamo così, un po' offuscata, impolverata e dimenticata. Pian d'Arca è un'area naturale di circa 40 ettari, situata nel territorio del comune di Cannara, a confine con quello di Bevagna. Si tratta di un'area pianeggiante, adagiata in una natura silenziosa e incontaminata e collocata in posizione centrale rispetto ad un panorama che rende visibili le vicine città, a Collinari, da Perugia, d'Assisi, da Spella, Montefalco e Bettona. Il luogo è di grande bellezza paesaggistica e di valore storico eccezionale per aver ospitato, secondo gli studiosi ed un'antichissima tradizione, uno degli episodi più emblematici ed evocativi della vita di San Francesco di Assisi. L'episodio della predica agli uccelli è, dicevo, il più poetico, il più idilliaco e entra nella coscienza delle persone di ogni appartenenza religiosa addirittura. C'è un ragazzo qui ad Assisi, di fede islamica, che vuole conoscere, è affascinato da questo episodio e abbiamo contatti con lui, il quale rimane della sua fede, chiaramente. Però, insomma, si apre a una realtà anche spirituale piuttosto interessante. San Francesco, percorrendo il sentiero che da Cannara porta a Bevagna, la strada antica, a un certo punto si accorge di una grande moltitudine di uccelli sugli alberi. Oggi gli alberi non ci sono quasi più, perché l'agricoltura non permette che crescano in mezzo ai campi, però sui confini ci sono. E secondo quello che raccontano gli actus beati francisci et sociorum aeius, poi tradotti dai fioretti, ma gli actus attenti sono stati scritti nel secolo di San Francesco, quindi alla fine del 1200, e sono scritti sulla testimonianza dei primi compagni di San Francesco. I fioretti traducono gli actus a metà del 1300, quindi la fede principale è gli actus, e poi i fioretti in lingua volgare. Bene, gli actus dicono che il santo, scendendo dalla montagna di Assisi, dal monte d'Assisi, a un certo punto decide di predicare anche il Vangelo, oltre che pregare, e si imbatte in questo castello che si chiamava Cannarium. Lui è accompagnato da frate Angelo, da frate Masseo, e una volta predicato a questo popolo e avuto l'ispirazione e l'idea del terzo ordine per i laici, si allontana in direzione di Bevagna, e qui avviene la Predica agli Uccelli. La Predica agli Uccelli è una pagina di poesia religiosa altissima, perché ha un significato non legato al tempo, ma valido in ogni tempo, è universale, perché è l'esaltazione dell'armonia tra la terra e il cielo. Alla presentazione ad Assisi c'era anche la Regione dell'Umbria, nella persona della Vice Presidente dell'Assemblea Legislativa, la dottoressa Paola Fioroni. Diciamo che la Regione sin da subito si è attivata per promuovere, per valorizzare, per cercare di tenere in rete tutte quelle che sono le grandi ricchezze paesaggistiche, architettoniche, culturali della nostra Regione, con chiaramente delle iniziative che vadano verso il far conoscere, sia nella nostra Regione, sia all'esterno, quindi a livello nazionale, ma a livello internazionale, quella che è l'Umbria, con le sue grandissime risorse che vanno da quelle che sono le tradizioni religiose a quelle culturali, anche a quelle enogastronomiche, tutte collegate da un filo conduttore che chiaramente vedono nel grande contenitore della promozione del turismo tutte le azioni che la Regione stava ponendo in essere. D'altra parte questo tipo di iniziative, oltre ad essere legate a quella che è una tradizione delle nostre comunità, sono legate a stretto filo con la necessità di far sì che il nostro territorio rimanga coeso, che si creano quindi delle comunità che fra di loro possano collaborare, ma possano essere sempre legate da un filo conduttore. Lo vediamo da Sisi a Cannara, abbiamo San Francesco che chiaramente unisce i luoghi, prendo un po' quello a prestito, quella che è l'iniziativa del FAI, i luoghi del cuore dell'Umbria legati alla tradizione del poverello e che chiaramente poi mettono insieme non soltanto queste due realtà ma altre comunità della nostra Regione. La Regione si sta impegnando per inserire quella che è Piandarca nei cammini francescani anche perché questo tipo di cammini sono collegati anche al turismo slow, a quello che è ormai una predilezione da parte dei turisti, da parte delle persone, cioè di ricercare quel turismo lento che permette anche di una meditazione con se stessi, che permette anche di ritrovare una serenità, una tranquillità legata ai paesaggi ma anche legata all'uscire da quella che è una frenesia del momento. Sicuramente questo è legato anche a una scelta probabilmente dopo la pandemia, dopo il Covid, dopo un momento che chiaramente ha visto cambiare tante abitudini e tante attitudini delle persone. Quindi sicuramente la Regione continuerà nel suo impegno per sostenere e valorizzare queste iniziative e per valorizzare il sito di Piandarca perché ricordiamo che la Predica ai Uccelli di San Francesco è una realtà, un avvenimento, un evento che ha un valore, un significato enorme che è stato anche oggetto di rappresentazioni importantissime di pittori come Giotto, come Benozzo Gozzoli e anche di compositori come Lizza. Ci troviamo di fronte a uno degli eventi più importanti della vita di San Francesco e proprio per questo dobbiamo ricordare alle nostre comunità che un comune come Cannara ha in sé un luogo del cuore, ripeto, che è legato al nostro Patrono d'Italia.